Ciao a tutti, io mi chiamo Alessandra e oggi vi illustrerò un breve video tutorial riguardo un'applicazione web chiamata WritingSparks. Questa è un'applicazione strutturata per studenti ed insegnanti, come notiamo da queste due icone, la prima è CreateSpark, ovvero la piattaforma dedicata agli insegnanti, la seconda è WriteNow dedicata agli studenti. Se clicchiamo su CreateSpark notiamo che l'insegnante avrà il compito di scegliere l'età dei propri studenti, ovvero che può essere minore di 7 anni o maggiore di 8. Se clicchiamo minore di 7 vedremo che avremo queste quattro opzioni o anche definiti Spark. Sono i compiti che l'insegnante dovrà scegliere di dare agli propri studenti. Possono essere la scrittura di una storia, di un articolo, di un'opinione o di una poesia. Noi ad esempio decidiamo per la scrittura di una storia. L'insegnante avrà la possibilità di scegliere quale tra questi tre lassi di tempo gli studenti potranno scrivere la loro storia. Scegliamo ad esempio 10 minuti. Adesso come noteremo si verrà scritta una frase da cui poi i ragazzi partiranno per poter scrivere la loro storia. Inoltre essi si avvaleranno anche della possibilità di avere dei suggerimenti che compariranno adesso appunto nello schermo che li stiamo vedendo, che gli aiuteranno a scrivere in maniera migliore e più creativa la loro storia. Successivamente verrà effettuata una discussione di classe tra l'insegnante e i ragazzi riguardo appunto una domanda riguardante l'argomento della storia. Successivamente i ragazzi scriveranno la loro storia nel lasso di tempo che appunto l'insegnante gli ha dato. Dopodiché a coloro che riusciranno a rispondere a una domanda cliccando su questo trofeo riceveranno una ricompensa. Questa qui è la domanda, l'insegnante se clicca Answer può comunque vedere la risposta e basta. Questa è la parte dedicata agli insegnanti e agli studenti. Se invece vogliamo parlare di un lavoro un po' più individuale dobbiamo cliccare su Write Now all'interno del quale lo studente singolo proprio ci dirà da solo di scrivere una storia, un articolo di giornale, una poesia oppure un'opinione. Ci diamo ad esempio una poesia. Ecco, come notiamo adesso qui il ragazzo dovrà scrivere il titolo della sua poesia, la sua poesia e rispondere a delle domande, eccole qua, che riguardano la sua poesia, quello che lui ha creato. iscriviti al nostro canale